Ucraina. È un momento storico molto caldo, ci sono disordini e proteste. Mentre il paese è in levata di scudi per ottenere l'indipendenza dall'Unione Sovietica, qualcuno si confonde tra la massa, compiendo furti e omicidi di una feroce inaudita. Si pensa alla disperazione, all'indigenza, alla fame di cui la popolazione sta soffrendo. Ma cosa sta succedendo davvero? Scopriamolo. Benvenuti passeggeri del web, io sono Mile e questo è Mile True Crime. Il mio contributo per ricordare le vittime di violenza è imparare dalle loro esperienze, per riconoscere eventuali segnali. Oggi vi parlerò di uno dei criminali più efferati che ha colpito tra gli anni 80 e 90, accumulando un numero di vittime impressionante. Sono infatti 52 quelle accertate, guadagnandosi l'appellativo di Terminator. Aveva un suo modus operandi, come quasi tutti questi assassini seriali. Il suo era colpire le famiglie, sì, i nuclei familiari composti da genitori e figli. Li derubava entrando nelle loro case, li uccideva e infine gli dava fuoco. Il motivo per cui compiva quest'ultimo atto è a dir poco agghiacciante. Ma voglio andare con ordine partendo con la sua infanzia. Chiedo anticipatamente scusa per le pronunce, semmai scrivo i nomi qui da qualche parte. Anatoli Onoprienko, questo è il suo nome, come avrete letto dal titolo, è nato il 25 luglio del 1959 a Lashki, in Ucraina, che è un villaggio nella regione di Zitomirskaya Oblast. Ve lo scrivo. Suo papà Yuri è un soldato arruolato durante la Seconda Guerra Mondiale, che riceve il grado di sergente e diversi riconoscimenti prima del congedo. Dopo la guerra entra a far parte del corpo dei pompieri, poi autista. In seguito conoscerà Nadezda, lei lavora come lattaia e allevatrice di maiali presso una fattoria collettiva. I due decidono presto di sposarsi e formare una famiglia. Quindi nel 1946 nasce Valentin, il primo genito, e successivamente nel 1959 Anatoli. Yuri non è un padre modello, oltre ad aver accumulato denunce per reati minori, è anche abusante, nel senso che è solito picchiare brutalmente i figli ed è anche un accanito consumatore di alcol. Nel corso del tempo Yuri e Valentin consolidano un buon rapporto padre-figlio, privilegio da cui Anatoli viene escluso a causa del suo carattere, come dire, tranquillo, poco socievole. Sarà Nadezda il punto di riferimento del piccolo, capace di farlo sentire amato e apprezzato. Mille fonti da cui ho attento le notizie si diramano. Non ha importanza rilevante nel caso, ma voglio comunque esporre quanto più correttamente possibile i fatti. Molti siti locali di notizie di cronaca raccontano che Yuri avrebbe abbandonato la famiglia quando Anatoli aveva appena un anno, mentre altre fonti come documentari sostengono invece che il genitore sarebbe rimasto con i figli, maltrattando ed eridendo Anatoli con la complicità di Valentin, umiliandolo fino all'età di sette anni quando avrebbe deciso di rinchiuderlo in un orfanotrofio. Vi ho fatto un piccolo spoiler necessario per spiegare dove durante la mia ricerca ho dovuto fare una scelta, considerando l'indiscussa serietà delle fonti. Ho pensato che la versione corretta sia quella riportata con più frequenza. Spero di non sbagliare. Quindi, quando Anatoli ha un anno, Yuri si innamora di un'altra donna. Decide di lasciare moglie e figli per rifarsi una vita con lei. Durante i primi tre anni procede tutto per il meglio, anche se immagino non sia stata una passeggiata per Nadezda, rimanere da sola con due figli negli anni 60. Purtroppo, quando il bambino ha solo quattro anni, Nadezda viene improvvisamente a mancare, stroncata da un attacco cardiaco. Il piccolo perde il suo unico punto di riferimento, l'unica figura in grado di trasmettergli amore. A questo punto Valentin ha 14 anni e decide di proseguire la sua vita in autonomia. Presto conosce una ragazza e si sposano giovanissimi. Invece, Anatoli viene accolto in casa dei nonni, credo materni. Nel giro di due anni o poco più, il bambino inizia a sviluppare comportamenti alquanto preoccupanti. Viene sorpreso a commettere piccoli furti. Resta coinvolto in zuffe, dessando l'indignazione della comunità e mettendo in forte imbarazzo i nonni. Presto quindi i due anziani gettano la spugna. Non se la sentano di gestire un bambino che sta evidentemente imboccando la strada sbagliata. A questo punto torna Valentin che lo porta a vivere a casa sua. Prova a correggere questi suoi comportamenti per un anno circa, ma anche lui ad un certo punto si rende conto che Anatoli ha sviluppato delle problematiche caratteriali difficili da gestire. Così ecco che il piccolo fa il suo ingresso nell'orfanotrofio di Malin. Ahimè, realtà molto comune a quell'epoca. In questo caso fa ancora più rabbia, visto che per la maggior parte dei casi chi ci finiva era per difficoltà economiche, mentre nel suo caso era per problematiche comportamentali. Adesso Anatoli ha perso i contatti con qualsiasi familiare. Ha 7 anni ed è rimasto solo, completamente. Lui è stato abbandonato da tutta la sua famiglia. Questo lo segna indelebilmente, traumatizzandolo nel profondo, anche perché non rivedrà mai più nessuno di loro. Inoltre la vita nell'orfanotrofio deve essere stata anche più difficile di ciò che possiamo immaginare, viste le rigide regole che in quell'epoca regnavano in Ucraina, facente parte dell'Unione Sovietica. Qui Anatoli inizialmente lascia tutti a bocca aperta. Diventa infatti uno studente brillante, molto ubbidiente. Tant'è vero che all'età di 14 anni viene accettato nella scuola tecnica forestale Malinsky Forest College, dove solo pochi studenti riescono ad accedere. Inoltre si impegna anche nella disciplina del karate. Peccato che dopo qualche mese crolla nuovamente e torna a manifestare gli stessi comportamenti che lo avevano portato in quel luogo. Ruba, diventa aggressivo, ma soprattutto beve. Questo ovviamente lo porta all'espulsione immediata dalla scuola. Si barca mena con questi atteggiamenti per tre anni, dopodiché si arruola nell'esercito. Qui trova un ambiente fortemente ostile. Gli altri militari non fanno altro che prenderlo in giro, dandogli dello smidollato. Lo picchiano e lo bullizzano di continuo. Riceve questo trattamento che a quanto pare subisce in silenzio, fino al congedo. In seguito decide di diplomarsi alla scuola navale e prende immediatamente servizio sulle navi da crociera Maxim Gorky. Scopre di riscuotere un certo successo sulle viaggiatrici single e per conquistare il loro cuore inizia a far loro preziosi regali. Quindi torna a commettere furti, perché ovviamente erano doni non adatti alle sue tasche. Alla fine si innamora di una cameriera di servizio sulla stessa nave. Lei si chiama Irina e ha 21 anni. Dopo solo un anno Irina rimane incinta e decidono di dimettersi. È il 1988. Anatoly ha 29 anni quando la coppia si trasferisce col nascituro, che chiamano Dimitri, nella città di Scrivo, nella regione di Scrivo, dove trova lavoro come vigile del fuoco e acquista la casa. Ma questa vita non fa per Anatoly e così solo un anno dopo fa esattamente quello che aveva fatto suo papà. Abbandona la famiglia. Peggio. Pare che l'uomo, sparire, venda l'immobile intascando i soldi e lasciando Irina e il suo piccolo nella più cupa disperazione. Ovviamente non li rivedrà mai più. E questo è un bene, visto cosa succederà in seguito. Tra l'altro ho letto che Dimitri, in età adulta, si arrollerà in Marina e condurrà una vita regolare e rispettabile. Una nota chiara in uno spartito del pentagramma completamente nero. Preparatevi perché da qui inizia la carriera criminale di Anatoly. Sembra che abbia deciso da questo punto in poi che il suo vero mestiere sia rubare, arricchirsi sulle spalle degli altri. Alza l'asticella passando da piccoli furti e cose diciamo un po' più costose, come ad esempio auto. Inoltre entra nelle case per svaliggiarle e non viene mai e poi mai preso. Tutto questo salterà fuori molto dopo. Nel 1989 Anatoly decide di svuotare l'appartamento della sua padrona di casa. Tra l'altro, quando compie questi atti, lo fa sempre armato di pistola. Probabilmente sa di trovare oggetti di valore, essendo una donna benestante, quindi si introduce nell'abitazione. Presto però si rende conto di non essere da solo. Infatti lei lo sorprende. Lui si sente messo alle strette. Lei lo conosce bene. È così che prende la decisione di ucciderla. Sarà il suo primo omicidio. E senza pensarci troppo le spara. Anatoly inizia poi a frequentare una palestra dove conosce Sergei Rogozin. Lui è un giovane di 27 anni. Ha combattuto in Afghanistan ricevendo anche dei riconoscimenti. È stato capo del consiglio comunale dei soldati internazionalisti. È sposato e ha anche una bambina. Una persona onesta e di buon carattere. I due stringono amicizia, escono spesso insieme e diventano come due fratelli. Purtroppo però, l'estrema povertà data proprio dalla fase politica che sta attraversando il paese, Sergei si fa convincere da Anatoly che avrebbe potuto risolvere tutti i suoi problemi entrando in affari con lui. E dico purtroppo perché oltre all'onesto commercio di frutta e verdura, lo trascina con sé anche nell'altra attività, quella di compiere furti negli appartamenti. Il 14 giugno dello stesso anno i due stanno tornando da un viaggio nella regione di Novgorod dove si sono recati per la vendita di un carico di ciliegie. Sono in autostrada e guidano verso casa. Anatoly che è al volante sterza all'improvviso e blocca un'altra macchina che sta procedendo parallelamente a loro. Sergei è pietrificato perché l'amico non gli comunica le sue intenzioni. Lo vede balzare fuori dall'abitacolo dopo aver afferrato la pistola. Intima il guidatore di abbassare il finestrino e senza dire altro gli esplode un colpo di pistola in pieno viso. La stessa sorte tocca alla moglie seduta accanto e alla figlioletta seduta sul sedile posteriore. Oleg Melnik, sua moglie e la loro bambina muoiono su una fredda autostrada all'età di 31 anni senza alcun motivo. Anatoly prende dall'auto tutto ciò che è di valore e poi dà fuoco all'auto con i corpi all'interno e lo fa perché non sopporta lo odore del sangue. Sergei è attonito, aiuta in qualche fase di questo scempio ma è paralizzato da ciò che è appena successo. Un massacro ma non è tutto purtroppo. Il 16 luglio si ripete la stessa scena sotto gli occhi impietriti di Sergei. L'omicidio di una coppia, il furto e l'incendio di un'auto. Idem il 16 agosto per un totale di nove vittime di cui almeno tre sono bambini. Sergei non ne può più, è sempre stata una persona onesta e neppure tutta la disperazione del mondo può giustificare il fatto di farsi trascinare in atti di tale atrocità. Il suo atteggiamento nei confronti di Anatoly muta e lui lo percepisce. Infatti prende la decisione di chiudere questo dalizio con enorme sollievo di Sergei. Lo fa però minacciandolo pesantemente. se lo avesse denunciato lui gli avrebbe fatto pezzi tutta la famiglia. Sergei sa perfettamente quanto quelle parole siano vere e così tiene la bocca chiusa pur di riprendersi in mano la sua vita. Così incredibilmente ne esce vivo e per il momento senza macchia. Anatoly continua con le stragi in solitudine. Poco tempo dopo avvista una famiglia di cinque persone, genitori e tre figli. Sono tutti addormentati nella loro macchina. Cerca di rapinarli ma nota che iniziano a svegliarsi. Così tira fuori la pistola e spara tutti. Finisce di raccogliere l'aria furtiva poi decide di sedersi in auto con loro. Ascolta il respiro agonico di quelle povere persone finché non cessa. Poi per lui l'odore si fa insopportabile e ancora dà fuoco a tutto. In questo momento succede qualcosa. La polizia sta indagando sugli omicidi ma non pensa ad un serial killer. E visti i disordini di quegli anni ritengono verosimile credere a furti finiti in tragedia, dettati dalla disperazione, dalla fame assoluta che sta attanagliando duramente l'Ucraina. Ma con quest'ultima strage qualcuno ha descritto una macchina sospetta agli inquirenti e succede che un giorno mentre Anatoli sta guidando si rende conto che dietro di lui c'è una volante della polizia che lo segue. Nonostante le diverse svolte quegli agenti continuano a stargli dietro. Così decide di accelerare e dopo qualche minuto riesce a seminarli. La prossima mossa è di bruciare la macchina e scappare in Europa. E ci riesce a Proda in Germania dove prosegue con la sua attività di ladro. Poi va anche in Australia. Il suo obiettivo è di farsi arrestare per ottenere la cittadinanza. Quest'ultima non sono certa che sia una notizia attendibile. Comunque durante una rapina in una gioielleria di Vienna effettivamente viene arrestato. Ed è la prima volta che succede quindi potrebbe anche essere possibile. Sconta la sua pena in carcere e dopodiché torna in Germania dove continua a commettere furti fino ad essere nuovamente arrestato. Durante la prigionia subisce percosse e maltrattamenti di vario tipo. Non è la prima volta che succede. Così l'ha letteralmente di matto. Forse per lui è un nervo scoperto e inizia ad affermare a gran voce che appena fuori di lì avrebbe ucciso 300 persone. Alla fine finisce in un ospedale psichiatrico da cui però riesce a fuggire. Si rifugia presso una comunità mormone e oltre ad essere un ricercato a questo punto è anche un clandestino. Riesce a nascondersi per un breve periodo. Poi la polizia lo trova e lo rispedisce al suo paese. Ora io qui non ho trovato le modalità di questa estradizione o semplicemente è stato espulso e lui è tornato spontaneamente in Ucraina. Anche perché continuando con la storia ritroviamo Anatoly libero per le strade ucraine. Quindi qui non ho capito come sia andata precisamente. Il fatto sta che Anatoly torna a barcamenarsi per vivere. Si aggiunge però il dubbio che la polizia potrebbe essere sulle sue tracce. Così resiste ancora per qualche anno alla tentazione di togliere la vita a qualcuno. Perché lo abbiamo capito. Uccidere gli dà una grande soddisfazione. Sentire con le sue orecchie esalare l'ultimo respiro delle sue vittime lo fa sentire potente e invincibile. È il 31 maggio del 1994. Anatoly si aggira nella stazione di Kiev. Non rappresenta un grave pericolo ma si comporta in modo strano e inappropriato con le persone. Viene dunque allertata la polizia che lo porta nella centrale. Lui si rende conto in questo frangente di non essere sospettato di alcun omicidio. Come conseguenza ai suoi comportamenti folli viene mandato all'ospedale psichiatrico di Pavlov. Durante il ricovero riesce a scappare diverse volte. In una di queste entra in casa di una signora anziana e la deruba. Ancora. Alla fine dopo tre mesi e mezzo viene dimesso con una diagnosi di schizofrenia paranoide. Nell'ottobre del 1995 si intrufola nella casa di alcuni suoi parenti dove sa bene di poter trovare delle armi in quanto cacciatori. E ruba un fucile TOZ-34 alla quale stega letteralmente la canna per accorciarlo e renderlo tascabile. È pronto per tornare ad uccidere. Non l'ha fatto per sei anni e vuole e sente il bisogno di farlo. Si dirige a Odessa dove rompe in una casa di una donna di 60 anni. Le spara, la guarda morire, poi prende tutto ciò che può e se ne va. Anatoly si sente vivo. Uccidere è come una droga e prova gusto anche a farla franca con la polizia. Si sente invincibile più che mai e infatti solo quattro giorni dopo si sposta a Malin, la città del suo orfanotrofio. Scorge una coppietta partata in macchina, spara all'uomo ferendolo. La donna corre via per chiedere aiuto. Anatoly si nasconde e aspetta. Quando vede ritornare la donna incredibilmente da sola salta fuori con un coltello e sgozza il fidanzato davanti a lei. Osserva la sua reazione, poi soddisfatto finisce il lavoro sparandole. Infine, come sempre, incendia l'auto e i corpi. Nel frattempo nella vita di Anatoly entra Anna Kozak, un'energica e simpatica donna, divorziata e con un bambino. I due si innamorano e iniziano una convivenza. In realtà Anna non sa molto dell'uomo, ma lui la abbaglia come è solito fare durante i suoi corteggiamenti, con fiori, gioielli e doni vari. Lo crede un uomo d'affari molto benestante e questo la rassicura. Ad ogni viaggio di lavoro rientra carico di doni, per lei e per il suo bambino, un ammagliatore. Insomma, tra i due sboccia vero e proprio amore. Ma la sua voglia di mettere vittime non si placa e inventandosi un viaggio di lavoro. Nel dicembre del 1995, Anatoly si stabilisce per qualche settimana nel villaggio di Bratovici, nella regione di Leopoli. Ad occhio subito la famiglia Zaychenko, composta da quattro persone, benestante. Una bella casa indipendente, questo soddisfa tutti i suoi criteri folli. Inrompe di notte arrampicandosi sul balconcino di una camera da letto. Vede un uomo che dorme e prima che possa reagire gli spara la testa e lo uccide. Quando si sposta nella camera, nota che sotto le coperte c'è un bambino di soli tre mesi. Su di lui usa un coltello. Poi trova anche la mamma e l'altro figlio. Spara e sveligge la casa. Appicca il fuoco e se ne va. Il primo di gennaio sta camminando su una strada quando incrocia una guardia forestale. Ferma l'uomo e senza troppi complimenti gli chiede i soldi. La guardia reagisce imprecando e insultandolo e lui perde la testa. Gli spara, lo fa rotolare sul bordo strada, lo deruba e a sfregio lo spoglia. Nella notte del 7 gennaio compie le stesse identificazioni mostruose su una famiglia di 7 persone tra adulti e bambini. L'unica variante è stato il furto di un anello di una delle vittime. Per toglierlo da addosso, invece di sfilarlo, sceglie di tagliare il dito. Traendone un insano piacere. Durante la permanenza in quel villaggio uccide 12 persone. Quando fa ritorno a casa regala ad Anna quell'anello e le chiede di sposarlo. Ma non succederà mai. Finalmente il quartier generale di Kiev arriva alla conclusione che tutti gli omicidi non sono frutto della disperazione ma opera di un serial killer. Beh, ce ne ha messo a riorganizzarsi dai disordini, voglio dire dal 91. Tra l'altro qualsiasi documento delle poche denunce ricevute dalla polizia, tutto perso. Quindi gli inquirenti avevano dimenticato completamente le segnalazioni di quella di quell'auto sospetta collegate al primo ciclo di omicidi, quelli tra l'80 e il 90. Anatoly continua ancora indisturbato e a fine gennaio la conta delle vittime sale a 30. La notizia del serial killer viene divulgata dai giornali e il killer viene appellato come Terminator. La popolazione è nel panico. La polizia brancola nel buio proprio per il fatto che eventuali tracce impronte vengono distrutte dal fuoco. L'unica cosa che riescono a scoprire dai fori di proiettile trovati sui muri è il tipo di arma utilizzata. Così pensano di diramare un comunicato alla popolazione. Chiedono collaborazione. Chiunque vedesse qualcuno di sospetto con armi o in atteggiamenti strani è pregato di comunicarlo alle forze dell'ordine. I centralini della polizia impazziscono, iniziano ad arrivare telefonate da qualsiasi zona dell'Ucraina. Gli agenti rispondono attivamente alle chiamate, ma sono tutti falsi allarmi, fino al 14 aprile 1996, quando un uomo telefona, dice di aver visto il suo vicino uscire di casa e nel mentre riporre in una borsa un fucile a canna mozza. Gli agenti non sono convinti di questa segnalazione, ma allo stesso tempo non hanno altre piste su cui indagare. Quindi parte una squadra di 12 poliziotti. Si appostano fuori dalla casa all'indirizzo indicato, bloccando tutte le uscite. Anatoli si rende conto di essere braccato. In un primo momento prova a restare calmo, ma dura poco. Fa uno scatto nel tentativo di raggiungere il fucile. Ovviamente in un attimo gli agenti gli sono addosso e lo immobilizzano. E sia lodato! Dopo ben 52 vittime innocenti, quest'uomo è stato fermato. Avrei voluto ricordare ognuna di queste povere anime, ma per la maggior parte non ne sono stati divulgati i nomi, né tanto meno le foto. Tanti di questi omicidi sono rimasti secretati all'interno del tribunale. Noi conosciamo solo il numero totale delle vittime. Durante la perquisizione della casa trovano un calendario con delle date segnate, con appunti riconducibili ad ognuno dei crimini. Trovano 122 oggetti tra gioielli, abiti e addirittura giocattoli appartenenti alle vittime. E ovviamente quel fucile a canna mozza che corrisponde all'arma che sanno essere stata utilizzata per compiere gli omicidi. Trovano tutte le prove necessarie per inchiudere questo criminale in carcere e buttare via le chiavi. Lui inizialmente si dichiara innocente, poi dopo un duro interrogatorio inizia a parlare e lo fa vantandosi e sbeffeggiando gli investigatori, quasi in modo provocatorio. Cioè sembra che Anatoly confessi i suoi crimini soltanto per il suo malato piacere di sentirsi superiore, più intelligente. Scoprono quindi che anche i delitti dell'89 sono ora risolti. Già in fase di interrogatorio fa le dichiarazioni scioccante, alcune delle quali vi ho già fatto menzione. Mi piaceva guardare le mie vittime, osservare mentre stavano per morire. Era bello sapere che quelli erano gli ultimi atti che gli restavano. Oppure, i bambini li uccidevo per non renderli orfani destinati al dolore. Era mia consuetudine dar loro fuoco perché l'odore dei cadaveri è rivoltante. Descrive i delitti con minuzia di particolari e senza alcuna emozione. Collabora per far ritrovare alcune vittime che risultano ancora essere persone scomparse. Infine fa il nome di Sergel Rogozin, che viene immediatamente indagato a sua volta. Viene esaminato in seguito dagli psichiatri forensi e con loro dichiara di aver agito per ubbidire alla voce di Satana. Ma nei vari test si contraddice ed è chiaro per i medici quanto sia lucido, al punto di tentare qualche sconto di pena per infermità mentale. Nessuno gli crede e la polizia documenta il quadro di una persona sana di mente, capace di intendere e volere e di sostenere un processo. Non so per quale motivo non si siano avvalsi delle cartelle cliniche del passato, quando è tornato dalla Germania, dalla Germania stessa o i documenti magari sono andati persi, coi disordini, non lo so. Questi documenti non sono stati usati in tribunale, strano, quindi penso che siano andati persi. Il 23 novembre del 1998 inizia il processo presso il palazzo di giustizia della città di Zitomir. Sperano tutti che gli venga data la pena di morte, che proprio in quel periodo sta per essere abolita. Continua a fingersi folle dando spettacolo in aula, ma nessuno gli da retta e viene semplicemente ammonito dal giudice riportandolo alla calma. Sergei racconta gli eventi liberando quel peso dal cuore. risulterà più come un valido testimone che come un imputato. Riceverà comunque una pena di 13 anni, per complicità in omicidio. Il 3 marzo del 1999 si conclude il processo con la condanna alla pena di morte per Anatoli. Il verdetto è così lungo che il giudice, per leggere tutto, ci mette ben due giorni. La condanna viene successivamente commutata in ergastolo per l'abolizione della pena di morte, avvenuta proprio in quei giorni. Invece di ringraziare la sorte, Anatoli continua a sostenere che riuscirà ad evadere, per continuare ad uccidere. Perché nel frattempo ha maturato il desiderio di portare a 360 il numero delle sue vittime e giura che ci riuscirà. Nessuno lo può fermare. La detenzione non è facile. Per 13 anni è costretto all'isolamento, perché gli altri detenuti hanno attentato alla sua vita diverse volte. Successivamente si calma un po', legge e studia. Si rassegna quella vita di cui è stato unico artefice. Poi il 27 agosto del 2013 muore per insufficienza cardiaca all'età di 54 anni. Si conclude così questa straziante storia. Questo terminator ucraino si può dire che ha ucciso una persona per ogni anno della sua vita. Sono stupita che il caso non abbia avuto troppa risonanza. Io l'ho trovato per caso e ho voluto nel mio piccolo portarlo alla luce. Mi scuso se dovessero esserci delle imprecisioni, ma le traduzioni dalle fonti in russo non sono eccezionali. Tra l'altro questo caso in Ucraina ha avuto tantissima risonanza ovviamente e ci sono tantissime informazioni ma contrastanti. Quindi spero di aver riportato tutto quanto più correttamente possibile. Io sono basita dal comportamento altalenante di Anatoli. Ho avuto l'impressione che a tratti abbia cercato di reprimere i suoi istinti malati e sono stupita della sua capacità di amare, crearsi una famiglia per poi abbandonarla, la capacità di amare un figlio non suo e poi la crudeltà di togliere la vita addirittura ad un neonato. Di disturbi mentali ne doveva avere e anche proprio tanti. Io spero che abbiate trovato interessante questa storia, che vi abbia fatto riflettere. Se vi va scrivete qui sotto nei commenti la vostra opinione e sempre se vi va iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Grazie, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!